Un aneddoto. Sono sempre stato affascinato dal circo, dai suoi straordinari artisti, da tutta la sua simbologia, lo spettacolo viaggiante, eccetera. Al circo ci ho lavorato anch'io quando, a metà degli anni settanta, facevo il batterista con Orietta Berti. Ricordo che nel primo tempo c'era l'esibizione classica fatta dagli artisti circensi e nel secondo tempo c'eravamo noi con il nostro concerto. Una sera rischiai di morire dalla paura perché durante la canzone Finché la barca va, nel punto in cui il testo recita Il grillo disse un giorno alla formica, sentii dietro di me uno spaventoso ruggito correlativo spostamento d'aria. Mi voltai e mi trovai a pochi centimetri dalle fauci spalancate di un leone con tutti i denti da leone. Gli addetti del circo avevano montato il corridoio di sbarre che porta i leoni dalla pista alle gabbie e viceversa. Quasi aderente alla postazione della batteria e una delle belve sulla via del ritorno si era soffermata a un palmo dalle mie spalle ad ascoltare e soprattutto a commentare la musica.